Quanta euro Giampiero Ma no io pure io c'ho in questo istante pure C'è il corvo allo shop ma non lo compro Cioè potevi prendere il corvo Potevamo barriciare essere fratellini Io lo devo trovare nelle casse Vabbè ragazzi vado Guarda Guarda Hanno usato in questo momento Sblocca il nuovo brawler Leva sta roba Guarda che arriva l'email Ragazzi stiamo per sbloccare La nostra seconda leggendaria Oh che schifo Bellissimo Ragazzi guardate quanto è bello così Che è tutto giallo Continua arrivare l'email Leon lancia delle lame contro i suoi avversari E può diventare invisibile per un breve periodo Dopo aver attivato un fumogeno Con la sua super Ragazzi due leggendarie su tre E questo video perché è uno di quei video pilastri della mia serie dei Brawl Stars L'arrivo ufficiale di Leon Vi lascio qua in alto tutta la mia playlist di Brawl Stars Non ci posso credere Leon No raga non è vero Non è vero Ma certo che è vero Certo che lo so l'ho già preso Benvenuto Leon Mi trema il telefono Raga guardate mi trema il telefono E anche benvenuto a te Alla skin Leon squalo Carina Ci sta però Assolutamente Leon Dunque Tra l'altro ripeto con i punti energia Quindi quei punti energia ci daranno anche una mano ragazzi Tutti quei punti energia ci daranno una grossissima mano Perché 180 punti energia non sono pochi per niente ragazzi Non sono scontati Quindi detto questo io andrei anche a prendermi volendo altri punti energia Che comunque torneranno utili Sì io vado a shoppare Leon Sally Con queste gemme che in realtà erano gemme mie Perché erano praticamente le rimanenze del video In cui ogni nuovo brawler gli facevo mangiare un panino del Mac E quelle gemme ragazzi se vi ricordate gliel'avevo shoppate io E raga io con tutta questa storia in cui sono andato a shoppargli Leon Voglio fargli uno scherzo Infatti prossima settimana raga sicuramente al 100% uscirà uno scherzo a mio padre Dove io non gli dirò nulla di aver shoppato Leon E gli facciamo appunto questo schersetto Ovviamente andiamo a selezionare Leon Sally Sicario furtivo Cioè in realtà Sicario furtivo è proprio il genere di Leon Però vabbè l'ho voluto leggere perché Enfatizzava il momento Sì ma lasciamo stare Nel negozio ho l'offerta speciale che mi farà sbloccare Leon A 549 gemme Quindi partirei a rasso nel video Con un nuovo brawler leggendario Signori miei eccolo qui Il mio piccolo Leon Ragazzi l'ho voluto tantissimo Perché mi shotta negli showdown Davvero è allucinante sto brawler Non mi ricordo nemmeno come si chiama Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Doppia leggendaria Doppia leggendaria Gemme Eccole Confermiamo l'acquisto Vai così Ole Leon Brawler leggendario 2 su 3 Mamma ragazzi E' troppo troppo bello Per me perché sono i nervi Sei pronto? Ecco io sono peeeeeee Le omi Lo ha detto Tan tan Nanan Aspettione quante skip 3 Mi sa che invece non potrei nulla Però 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 Oh NERDA Reggio e quindi nulla raga io per questo video di prenderci leon farlo passare dalla nostra parte e diventare anche noi un ninja come naruto e come è leon perché leon tipo è una sorta di ninja della foglia di konoha o leon sarei mio però vi giuro che 549 gm sono un colpo al cuore basta non pensiamoci leon mamma mia raga guardatelo com'è bello poi intanto io ho perso i suoni del gioco non sto più sentendo però vabbò chissene prendiamo questo che è gratuito allora io direi adesso di andarci a fare delle belle battle royale no va beh no va beh ecco questa è la faccia di un ragazzo emozionato che ha trovato la sua prima leggendaria non immaginate la faccia che ha fatto quando ha scoperto che il cellulare non ha registrato diciamo che era più o meno così non ci credo l'ho trovato e non stavo neanche registrando perché sto coso dura 15 minuti non so fino a che punto avete visto guardate cosa ho trovato non ci posso credere non so ragazzi fino a che punto siete rimasti ma non ci ho proprio fatto caso che questo robo registrava solo 15 minuti comunque sia mi dispiace che non l'avete visto ma guardate cosa ho trovato ho trovato ebbene sì ebbene sì oltre ad un epica ho trovato il nostro leon non ci voglio credere la mia prima leggendaria con mille gemme ora ne porto uno due a settimana e oggi vi dico di condividere il video ad almeno un vostro amico perché lo farete rosicare un po' e forse rosicherete un po' anche voi perché sì da come avete letto dal titolo è successo qualcosa di veramente leggendario anzi due cose leggendarie dove si trovano i brawler 3 2 1 sbam ragazzi sbam sono riuscito a trovare leon in una semplice cassa piccolina in una cassa normale guardate qui ne trovo un altro no non ne trovo un altro era se non sbaglio proprio il 25 dicembre il giorno di natale mi sveglio apro una cassa e mi ritrovo lui poi non finisce in acqua quindi tre mille brawler i brawler e ragazzi qua bisogna rischiarsela io te lo dico qua c'è leon mi spiace però è barril e barril ma è ragazzi come la rischio dai e se è cromatico è cromatico vediamo 3 2 1 scendiamo che succede leon brawler leggendario no non ci so crede non ci credo no non è vero non è vero ora non ci credo sono diventato no mandamelo screen balordo aspetta no chiudo il canale basta mamma mia chiudo il canale non ci credo no vabbè basta chiudo il canale madonna chiudo il canale non ci sto credendo cioè questo è il brawler più forte del gioco non ci sto credendo eh no non si trova i leggendari senza non ci credo con l'ultima cassa sto registrando io se fai vedere no ho cliccato ho tolto no no vaffancina non ci credo non apro una buffo pure io cioè non gli stava entrando niente non gli stava entrando niente gli è entrato l'ion all'ultimo ma che fortuna la terza cassa non è possibile cioè non ci sto veramente credendo 20 minuti di chest opening per trovare cosa se non mi da niente ragazzi tra l'altro benissimo averlo trovato alla terza sapete perché perché adesso lo livelliamo di brutto lo portiamo minimo minimo a livello 5 livello 6 con tutte ste cassette devo andare più veloce devo fare una combo di dita cioè tipo apro la cassa regà clicco sotto e via velocissimi colt brock bellissimi raddoppiaggettoni non vedrete niente no però è l'unico modo o all'aggato c'è qualcosa di potente no non c'è niente ragazzi quella cosa oh mio dio non ci credo ho aperto 10 casse un leggendario carletto 5 rosa di nuovo vedete che ne stiamo trovando parecchi pensate se io non l'avessi gemmata probabilmente a quest'ora era possibile anche non averla ancora trovata anzi addirittura con la fortuna che ho io era possibile non trovarla in tutto il video rosa perché ormai mi conoscete e oddio oddio ma cosa me ne frega di rosa ma cosa me ne frega di rosa ragazzi ma cosa me ne frega ma teneteve la macchina frega di rosa subito ti prego tirami fuori il leon subito uhuhuhu uhuhuhu ragazzi mamma mia 10.000 coppe mamma mia 10.000 coppe ragazzi adesso altro che superarle le faccio proprio così come ridere 10.000 coppe anzi possiamo puntare anche alle oddio 11.000 anche le 11.000 ma vabbè ma vabbè ok va bene va bene ok lo dicevo che sono sfigato lo dicevo che sono sforzato Sì, buono così, buono così, continuiamo, casse enorme, di nuovo, ma 3 skip luminosi di seguito, 3 skip luminosi di seguito, oh, oddio ragazzi, non ci credo, 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 non ci credo. Non ci credo, 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 mi sto tremando ragazzi, 3 skip luminosi di seguito, mamma mia, Grazie. 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 Grazie.